eccoci inizia la diretta vai fabi ma va che freddo 32 gradi qua ci sono ragazzi tutto solo è la neve finta non vi preoccupate tutto finto fa caldo andiamo andiamo dai ok siamo in diretta da piazza duomo body positive catwalk laura vai fabi ah sono partite loro body positive grandi ragazzi bravi ragazzi ragazzi che sfidano il freddo per poi ragazzi vai ottina ecco le ultime le ritardattarie permesso permesso buttati in mezzo ecco le ecco le guarda vai body positive catwalk il gelo non ferma le ragazze belle 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 andiamo vai Giulietta brava Stella grazie 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 vai Fabi grazie 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 Siamo in diretta dalla piazza Duomo. Laura è lì al centro, Siamo in diretta dalla piazza Duomo. 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 Siamo in diretta dalla piazza Duomo.